Ciao a tutti, oggi vi volevo mostrare un piccolo BCBM di 3 carte del set Aquapolis La prima carta è questo Kingrai cristallino Che è l'unica che non ho comprato ma abbiamo sbustato Solo che il video non l'abbiamo ancora caricato E la prima carta è questo Kingrai Poi la seconda è questo Nidoking che invece ho comprato da Card Game A 7,90€, 7,50€, non mi ricordo Comunque è un ottimo prezzo, sempre in italiano E poi l'ultima, come avrete già capito, è questo Lugia In ottime condizioni In inglese Ho pagato veramente pochissimo, 12€ In condizioni veramente ottime, non me l'aspettavo così Ok, questo è il BCBM che vi volevo far vedere Spero che le carte vi siano piaciute Vediamo se si mantengono Ok, se si mantengono anche Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video Ciao